Non sarà una vittima... A Verona muore il conte di Schullenberg, per ben 31 anni comandante supremo delle truppe veneziane di terra in Levante. Avrà un solenne monumento funebre e fastosi funerali a spese pubbliche. Le previsioni per domani. Cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni. Probabilità di deboli fenomeni un po' più consistenti al mattino in attenuazione nella seconda parte della giornata. Limite della neve a quote molto basse. Possibilità di modeste precipitazioni nevosi o di pioggia mista neve anche in pianura fino alla mattinata. L'entità degli eventuali accumuli è ancora soggetta a un notevole margine di incertezza. Temperature in ulteriore diminuzione, specie le massime e ben inferiori alla norma.